ma ben a tutti siamo tornati qua in un altro video sempre a parlare di Red Dead Redemption posto giro dell'online perché vi voglio fare ho trovato un po di nascondilli delle band delle band delle gang che vengono contrasti vengono con un teschio rosso con un icono di teschio rosso sulla mappa e vi do un po la lista delle bande e luoghi dove le ho trovate e così se appare questo teschio rosso sulla mappa sapete che è una gang è una banda oppure se volete proprio andare a farlo potete andare per vedere di riuscire a eliminare tutta la banda per poi prendere riuscire a fare a rendere il capo e lì dopo decidete se ucciderlo o meno per farvi se lo uccidete trafugando il corpo prendete la mappa del tesoro se invece lo lasciate vivo vi dovrebbe dare la mappa del tesoro e dopo lui dovrebbe scappare che voi appena vi date la mappa e scappa lo potete far fuori se potete io le ne ho fatto uno o due ho fatto fuori tutti senza problemi e vi andiamo a vi do adesso la lista di queste bande Baccio Statio, North Fort Wallens, Clement's Point, Ovest di Rodi, Cumberland Falls, Sud Ovest San Valentino, Ex Equinx Basin, Sud del Lago Isabella, Fort Merler, S.D. Benedict Point, Hansing Dog Reins, North the Little Creek River, Georges Gap, Sud Ovest di Armadillo, Quacker Cove, Sud di Blackwater, Solomons Foley, Sud Ovest di Benedict Point, The Loft Ovest di Foley, Roanoke Warley, Twin Rocks a nord di Armadillo, Williards Rest parte nord orientale della mappa e come ho detto prima questi sono tutti le gang e le bande che ho trovato sono tutti uguali cioè vai lì fai fuori tutti decidi se far fuori o meno il capo fatto ciò se lo fai fuori trafughi per la mappa se non lo fai fuori ti dà la mappa lui direttamente e niente questa era proprio una guida rapida rapida sul mondo dell'online della gang e niente ci vediamo al prossimo appuntamento bello